Buongiorno a tutti. Oggi è mercoledì 24 giugno e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e su Fruzimib. Ci sono giornate in cui i movimenti sono talmente inattesi, come è stato ieri rispetto alla provisione che avevo fatto, che è sempre meglio attendere prima di muoversi. Ecco perché noi ci muoviamo solitamente dopo le 10 e 01, ovvero dopo un primo movimento, una prima ora di contrattazione, di negoziazione continua. Cosa è successo? Invece che fare un movimento di questo tipo e andare a chiudere il settimanale come mi aspettavo e come avevo segnalato nell'analisi, siamo andati su a schedule oltretutto. Questi sono HFT puri e quando si va così su, sopra il massimo che reggeva sostanzialmente una partenza di nuovo t inverso, bisogna chiedersi se, viste le condizioni minime già raggiunte, da qui effettivamente è ancora partito un t inverso che si è appena vincolato a ribasso per il rialzo di indice, oppure a che punto siamo? Infatti ho dovuto ricontrollare tutto, ovvero questo potrebbe essere l'ottavo t-3, questo il nono, questo il decimo e qui bisogna vedere che cosa succederà. Anche perché quarto ormai mi sembra un po' strano, ma lo vedremo. D'accordo? Per poter oltretutto avere una visione più chiara di quello che sta succedendo, non bisogna andare alla cieca, ma bisogna continuare a controllare. Se questa visione non ci basta, se questa violazione di swing non ci è bastata per capire determinati movimenti, perché ci dava solo indicazioni parziali, allora si passa a questo grafico e poi a questo. Questo è quello che secondo me rende meglio la situazione attuale. Dove ci siamo fermati ieri? Guardate qua, Fibonacci puro praticamente. Fibonacci a 12.543 e noi ci siamo fermati a 12.523, con un massimo fatto a 616 e poi ripreso. questo oltretutto mi fa pensare che l'inverso non sia arrivato a un 7 più 4 già vincolato sì al ribasso di inverso, sempre al rialzo di indice, ma che si possa essere andati semplicemente a fare un 11, con conseguenze sulla giornata di oggi estremamente chiare, perché dopo un T, inverso, parte che cosa? A meno di raccorti, lingue e tutto il resto. Per cui, dato che oltretutto siamo andati a chiuderci persino questo gap down con questo movimento rialzo, vediamo per la giornata di oggi che cosa succede, perché i futures già ci dicono che avremo un'apertura di, eravamo a 70, di 60 punti a ribasso rispetto alla chiusura di ieri, quindi apriamo attorno ai 12.583 circa, ma bisognerà vedere perché mancano ancora 16 minuti all'apertura. Quindi, di nuovo, attenzione ai punti di controllo molto semplici da individuare e in base ai movimenti che avremo, dopo il tempo che potremo avere, vista la partenza di un ottavo T-3, ricordiamoci che non c'è ancora un T-3 ribassista che abbia chiuso questo T settimanale innaziato il 15 di giugno. E siamo già oltre la durata minima, 6 T-3 che non è stato ribassista il sesto. Siamo andati a 7, questo potrebbe essere l'ottavo T-3. Stante ciò, a quel punto, eventualmente in violazione di questo minimo a 12.453 e nei tempi ciclici corretti, perché quelli sono fondamentali, se andiamo fuori dai tempi ciclici corretti, non ci muoviamo, avremo la possibilità di avere la nostra chance di valutare eventualmente uno short, se vorranno farlo, perché ieri questo è stato il movimento e noi ci siamo presi una pausa per approfondire la situazione. E se l'approfondimento sarà corretto e da qua sarà partito un nuovo inverso, rispetto al precedente avremmo fatto l'11, il movimento A11 di T inverso settimanale che abbiamo visto sul grafico cammelle giornaliere, potremmo fare delle belle operazioni oggi, altro che aspettare paga sempre per un trader. Arrivando invece al discorso per Fuzzinib, cosa molto molto simile come vedete, in questo caso il movimento è un po' differente, perché anche qui dovremmo capire se questo è il settimo T-3 inverso, ottavo, nono, decimo, con questo massimo è andato a chiudersi anche questo e qui abbiamo già tranquillamente la condizione per dire che da qui può essere iniziato l'ottavo T-3. quindi ce lo mettiamo qua, ci mettiamo alle 16 punto di domanda, qui possiamo tranquillamente togliere i punti di domanda perché sono ormai livelli acclarati e direi che siamo posti così. perfetto. Vi ringrazio per il vostro tempo, ricordatevi che anche in questo caso il punto di attenzione è minimo a 19.701 e che in altri casi differenti da qui effettivamente sarà partito un T-inverso, non è la mia ipotesi principale, è la mia secondaria. vi ringrazio per l'ascolto, nel caso quest'analisi vi fosse piaciuta mettete un like, eventualmente iscrivetevi al canale, intanto è gratuito, cliccate la campanellina per vedere quando uscirà la nuova analisi e passate una splendida giornata. la mia sarà splendida perché ho deciso così. Arrivederci.